Ciao ragazze, oggi vogliamo mostrarvi una collaborazione che abbiamo ricevuto dal sito www.madamglam.com Abbiamo infatti avuto l'opportunità di ricevere uno starter kit I prodotti sono arrivati all'interno di questa box, perfettamente imballata e con della spugna a protezione degli oggetti presenti all'interno Il kit contiene innanzitutto una lampada per l'applicazione degli smalti in gel e come potete vedere è carinissima, compatta e appunto presenta delle decorazioni davvero carine sulla superficie insieme al logo dell'azienda E' presente poi un cavetto e un adattatore Il kit contiene poi tre smalti in gel che hanno un packaging davvero molto essenziale ed elegante E dal tappo, dalla sommità del tappo, è possibile vedere qual è il colore dello smalto Il primo si chiama Sweet Melody ed è un lilla davvero delicato ed elegante Il secondo è It's Raining Man ed è un bordeaux davvero bello, ci piace tantissimo Il terzo si chiama Only You Ed è un viola, anche questo davvero bellissimo Non vediamo l'ora di usare questi smalti e ve li mostreremo sicuramente in diversi tutorial Si tratta di smalti davvero innovativi e di ottima qualità Infatti sono degli smalti one step Contengono cioè già in sé base e top coat Per cui non è necessaria l'applicazione di più prodotti Inoltre sono degli smalti five free, cruelty free e vegan Vi consigliamo di andare a dare un'occhiata sul sito www.madamglam.com Perchè oltre a questi colori ce ne sono tantissimi e tutti davvero belli Per voi inoltre la possibilità di avere uno sconto del 30% sugli acquisti Inserendo nel carrello il codice NELART BY GIGA30 Ringraziamo ancora Madame Glam per la collaborazione E continuate a seguirci per i tutorial sull'utilizzo di questi smalti Ciao!